Oggi diciamo che la gente, anche molti all'ultimo rispetto a qualche anno fa, che prenotavano molto tempo prima, hanno poi deciso con il bel tempo della giornata comunque di uscire, di essere spensierati. Vedo che con comunque anche il periodo di Pasquale, così, le persone, ci sono stati tanti asporti, quindi persone che comunque hanno avuto piacere comunque di rimanere a casa e hanno preferito fare comunque un delivery, ma tanti altri che comunque hanno gustato il pranzo pasquale comunque a ristoranti, a spensierati, nell'essere anche serviti e non preparare. Ecco, la speranza è quella che ovviamente è di ritornare alla normalità il prima possibile, sicuramente le persone, i ragazzi, le famiglie hanno voglia di fare una bella passeggiata, insomma di ritornare alla normalità, ecco, questo sicuramente. Il bilancio di questo 25 aprile, come sono andate le prenotazioni ed eventualmente anche di un eventuale futuro, come si prevede? Beh, per quello che riguarda tutto il weekend, più oggi siamo più o meno, siamo tutti al completo e di conseguenza il bilancio non può essere che positivo sotto tutti gli aspetti. Ci ridà un po' di ossigeno per tutti quei periodi che abbiamo passato, chiaramente che ci hanno un po' debilitato sotto l'aspetto finanziario. Per il resto, per il futuro, c'è qualche ombra per quello che riguarda principalmente due punti in particolare. Uno è l'occupazione del suolo pubblico che ci era stato promesso anche per quest'anno gratuitamente e in qualche parte, diciamo, in parecchi ristoranti. Ci sarà una defezione di spazi che non possono essere utilizzati perché magari la sede stradale è stata magari chiusa oppure delle vie dove sono state chiuse, però era una cosa anche molto carina. Sulle strade venivano messi questi tavolini dove la gente poteva magari mangiare qualcosa all'aperto in più. E forse l'altra nota dolente è sicuramente il personale, che tutti abbiamo problemi con il personale. D'altronde questo reddito di cittadinanza ci ha dato, diciamo, è una concorrenza sleale a tutti gli effetti perché un ragazzino che prende 800 euro per non fare niente o venire a prendere 1000 o 1200 lavorando magari anche diverse ore e chiaramente preferisce stare a casa, prendere 800 euro e divertirsi. Questi sono i due problemi principali. Poi per il resto speriamo in una bella stagione, visto che fino adesso abbiamo avuto solo che freddo e anche oggi non possiamo mettere fuori i tavoli e c'era molta richiesta per star fuori.